Che cos'è noi con Salvini? È un progetto di vita, prima ancora che di politica, perché l'Italia merita di tornare a lavorare e a sperare nel futuro, cosa che oggi le regole europee e la mala politica in tutta Italia, ma soprattutto al sud, ci stanno impedendo di fare. Un progetto che si basa su alcune idee semplici, concrete, non l'immigrazione incontrollata, revisione dei trattati internazionali, tutela delle nostre tradizioni, dell'identità, delle lingue, delle culture, del nostro modo di essere famiglia e drastica riduzione del peso fiscale, con una quota unica al 15%, con la cancellazione di gestione del settore, con il no all'Imo sui terreni agricoli. Quindi un progetto di vita, prima ancora di cultura, che vede recuperare la sovranità, cosa che invece è stata regalata a Bruxelles purtroppo negli ultimi anni. Non è un partito quindi? No, per il momento è una comunità, è una comunità che se avrà le gambe per camminare diventerà anche soggetto politico. Altrimenti rimane una comunanza di valori e di battaglie. Perché il giallo e il blu? Perché mi piacevano, perché sono due colori che mi piacciono. Non potevo farlo rosso-nero, perché sennò sarebbe stato escludente nei confronti del resto del tifo italiano. Però sono due colori che mi danno speranza. Le elezioni regionali ci saranno anche al sud in primavera? C'è possibilità che si presenti questo movimento? Se crescerà sì, se imbarcherà tante energie nuove sì. Assolutamente, perché da progetto di cultura, da progetto di vita può diventare anche progetto politico. Spero che diventi progetto politico. Chi volesse partecipare cosa deve fare? Noi con salvini.org, nome, cognome, identità, professione, sottoscrizione della carta dei valori e poi via. Poi si parte dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sardegna, da Roma. Quanti più saremo, tanto più qualcuno ai piani alti comincerà ad avere paura, paura che già hanno.